Charles Bronson, un nome sinonimo di forza, resilienza e della quintessenza della persona dura sul grande schermo. Durante la sua illustre carriera, Bronson ha affascinato il pubblico di tutto il mondo, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del cinema. La presenza di Bronson sullo schermo era innegabile, creando un'eredità che ha resistito alla prova del tempo. Fuori dallo schermo, però, è rimasto una figura enigmatica, avvolta nella stessa mistica che ha definito i suoi personaggi. Negli ultimi anni, fan e ammiratori hanno speculato sulla vita privata di Charles Bronson, cercando di comprendere l'uomo dietro il mito. È sua figlia che ora offre uno sguardo nel mondo di una delle figure più iconiche di Hollywood, confermando ciò che molti hanno pensato da sempre. La figlia di Bronson ha condiviso riflessioni sull'eredità di suo padre, evidenziando la sua profonda dedizione alla sua arte e il suo impegno incrollabile verso i suoi cari. È una narrazione che arricchisce la nostra comprensione di Bronson, non solo come icona del cinema, ma anche come uomo di famiglia devoto. Una delle informazioni che la figlia di Charles Bronson ha confermato e che ha scosso il mondo del cinema riguardava la sua morte, questo evento ha lasciato un dolore estremo per i membri rimanenti della famiglia, specialmente per i suoi figli. Per i suoi fan, la scomparsa di Charles Bronson nell'agosto del 23 segnò la fine di un'era per gli appassionati di cinema di tutto il mondo, in particolare per coloro che ammiravano il realismo crudo e l'eroismo stoico che portava sullo schermo la salute. Di Bronson era andata declinando fino alla sua morte, con un'importante operazione una sostituzione dell'anca nell'estate del 1998 che segnava la fine della sua carriera di attore. Questo intervento, unito a vari problemi di salute, sottolineava le vulnerabilità di un uomo che era stato a lungo associato alla durezza e alla resilienza sia sullo schermo che fuori. All'età di 81 anni, Bronson morì per insufficienza respiratoria e cancro metastatico ai polmoni presso il CEDARS Sine Medical Center di Los Angeles, dissipando precedenti voci e chiarimenti riguardo a polmonite e malattia di Alzheimer come cause della sua morte. La presenza di malattia polmonare ostruttiva cronica e cardiomiopatia con gestizia nel suo certificato di morte dettaglia ulteriormente le lotte di salute che ha affrontato negli ultimi anni. L'inumazione di Bronson presso il cimitero di Brownsville a West Windsor, Vermont, offriva una conclusione silenziosa alla vita di un uomo che aveva vissuto alla ribalta ma aveva affrontato le sue sfide finali in modo privato e dignitoso come i personaggi che spesso interpretava. La sua interpretazione di personaggi che spesso combattevano contro ostacoli insormontabili ha risuonato con il pubblico, rendendolo una figura amata nella storia del cinema, oltre alla sua persona sullo schermo. Gli ultimi anni di Bronson e le circostanze della sua morte rivelano un lato umano dell'attore. Ci sono ancora molte verità sulla vita di alti e bassi di Charles Bronson che sua figlia non ha raccontato. Nel cuore della Rugged Call Region della Pensilvania, il 3 novembre 2019-21, è iniziata una storia che avrebbe travalicato gli umili inizi del suo protagonista Charles Dennis Bukinsky, che sarebbe poi diventato conosciuto in tutto il mondo come Charles Bronson, è entrato nel mondo come undicesimo figlio di immigrati lituani. Il racconto dei primi anni di Bronson dipinge un quadro vivido di una famiglia definita dalla sua pura numerosità, dalle lotte economiche e dalle dinamiche interne complesse. L'educazione di Bronson a Ehrenfeld, in Pensilvania, era emblematica dell'esperienza degli immigrati durante i primi del 20 gradi secolo. I suoi genitori, Walter e Mary Bukinsky, hanno navigato le sfide della vita in America mentre crescevano una vasta famiglia di 15 figli. Il padre di Bronson, Walter, proveniva da Druskininkai nel sud della Lituania. Un background che portava un'eredità culturale unica ma anche un insieme di sfide all'integrazione della famiglia, nella società americana. L'ombra della povertà era grande nei primi anni di Bronson, esacerbata dalla devastazione economica della Grande Depressione. I ricordi di questo periodo della sua vita evidenziano una marcata assenza di necessità, dall'abbigliamento adeguato al cibo sufficiente. Un ricordo particolarmente toccante condiviso da Bronson riguarda la mancanza di latte per sua sorella minore, che invece veniva nutrita con tè caldo. La relazione di Bronson con suo padre, Walter, era segnata da una profonda ambivalenza. In interviste, Bronson ha rivelato un mix complesso di emozioni nei confronti del padre, che andavano dall'indifferenza a un profondo dubbio sui suoi sentimenti di amore o risentimento. Questa dinamica tumultuosa è stata ulteriormente complicata dalla reazione istintiva dei bambini di nascondersi. Ogni volta che il ritorno del padre veniva annunciato, testimone della tensione palpabile che permeava la casa. Nonostante le avversità affrontate dalla famiglia Bukinsky, il perseguimento dell'istruzione da parte di Bronson segnò una significativa deviazione dalla norma e diventato il primo della sua famiglia a completare la scuola superiore, un traguardo che sottolineava l'importanza dell'istruzione come via verso un futuro migliore durante la sua infanzia. Bronson non parlava inglese a casa, riflettendo la diversità linguistica della comunità di immigrati in Pensilvania. Tuttavia, questa barriera linguistica non ha ostacolato le sue aspirazioni la competenza linguistica di Bronson, inclusa quella in lituano, russo, greco e inglese. Ha evidenziato la sua adattabilità e resilienza. L'infanzia di Charles Bronson era emblematica delle estreme difficoltà affrontate da molti durante la prima parte del 20 gradi secolo, nato in una famiglia dove le risorse erano scarse. I primi anni di vita di Bronson erano una testimonianza di sopravvivenza contro le probabilità. La scarsità di necessità era tale che Bronson e i suoi fratelli dovevano condividere non solo i pesi emotivi ma anche quelli fisici, compresi gli abiti che indossavano. La paura dei pidocchi, una preoccupazione comune nelle aree densamente popolate e impoverite. Ha spinto il padre a radere i capelli a tutti i ragazzi della famiglia. Questo non era solo per la pulizia, ma come misura preventiva contro i parassiti che avrebbero potuto causare ulteriori difficoltà e disagi. Forse il dettaglio più significativo della gravità della loro povertà era la dipendenza di Bronson dal vecchio. Vestito di sua sorella come unico uniforme scolastico disponibile, questa situazione sottolinea non solo la disperazione finanziaria della famiglia Bronson, ma anche le sfide sociali affrontate da Charles fin da giovane. Indossare un vestito a scuola, specialmente in un'epoca in cui le norme di genere erano rigidamente definite, l'avrebbe esposto al ridicolo e all'ulteriore emarginazione. Di fronte a un'infanzia difficile, è facile immaginare il giovane Bronson che cade facilmente nei mali sociali. Bronson ha preso l'abitudine di fumare quando aveva solo nove anni. Questa abitudine, profondamente radicata fin da così giovane età, ha tragicamente giocato un ruolo nei suoi successivi problemi di salute e nella sua morte. Le prove di Bronson si intensificarono con la morte del padre quando aveva solo dieci anni, un momento cruciale che lo ha gettato prematuramente nel mondo del lavoro la responsabilità di contribuire al sostentamento della sua famiglia lo ha portato nelle miniere di carbone, un ambiente pericoloso e impegnativo che ha definito i suoi anni da adolescente. Il suo lavoro iniziò nell'ufficio delle miniere, ma crescendo passò alle pericolose attività sotterranee, inclusa la rimozione dei ceppi per prevenire crolli una testimonianza delle condizioni pericolose che lui e i suoi coetanei affrontavano quotidianamente per ogni tonnellata di carbone estratta. Bronson guadagnava solo un dollaro, una misera compensazione per un lavoro così pericoloso. Queste esperienze, sebbene dure, hanno contribuito alla forza e alla perseveranza che Bronson ha successivamente canalizzato nella sua carriera di successo come attore, rendendolo un simbolo di durezza e resilienza sul grande schermo. Nel 1943, in mezzo alle turbulenze della Seconda Guerra Mondiale, la vita di Charles Bronson prese una svolta decisiva quando fu arruolato nelle forze armate degli Stati Uniti per molti. La leva era una prospettiva spaventosa, ma per Bronson rappresentava un punto di svolta significativo a riflettuto su questo periodo come la cosa migliore, che gli sia mai successa, segnando la sua fuga dal duro lavoro nelle miniere di carbone. L'esercito gli fornì le cose essenziali di cui era stato privato per lungo tempo, cibo adeguato, abbigliamento appropriato e un'opportunità per migliorare le sue competenze in inglese e il miglioramento del suo. Inglese è particolarmente degno di nota. Segna una fase cruciale nell'assimilazione e nello sviluppo personale di Bronson. La vita di Bronson dopo la guerra è stata caratterizzata da una determinazione implacabile e il suo ingresso nel mondo della recitazione è stato tanto casuale quanto trasformativo dopo la guerra. Mentre faceva lavori occasionali, incontrò un gruppo di attori ad Atlantic City che gli offrirono lavoro dipingendo i set questa opportunità riaccese, il suo interesse per la pittura, ma lo introdusse anche nel mondo della recitazione. Il coinvolgimento di Bronson con il teatro, inizialmente ai margini, alla fine lo portò a intraprendere la recitazione come professione, aprendo la strada alla sua illustre carriera a Hollywood. Durante le fasi iniziali della sua carriera di attore, Bronson condivideva un appartamento a New York City con Jack Klugman, una futura stella nel suo proprio diritto le reminiscenze di Klugman su Bronson dipingevano un quadro di un uomo, estremamente ordinato e abile nel stirare, caratteristiche che potrebbero facilmente formare la base di una trama comica. Tuttavia, le radici della meticolosità di Bronson erano ben lungi dall'essere comiche, derivando invece dalle difficoltà e dalla scarsità della sua vita iniziale. Il viaggio di Charles Bronson verso la fama di Hollywood è pieno di colpi di scene inaspettati inizialmente entrando. Nell'industria cinematografica sotto il suo nome di nascita, Bukinsky, affrontò il clima tumultuoso degli anni 50, un periodo in cui la paura rossa e il maccartismo gettarono un'ombra su molti aspetti della vita americana. Il diffuso sentimento anticomunista, particolarmente virulento contro i leftist e coloro di discendenza dell'Europa orientale, ha reso necessario un cambiamento cruciale per Bronson. L'adozione di Bronson come cognome professionale non era solo una scelta personale ma una mossa strategica per navigare il contesto politico incerto del tempo e assicurarsi un posto nell'industria cinematografica. Tuttavia, l'adattamento del suo cognome non è paragonabile alle circostanze peculiari che lo hanno portato al suo primo ruolo cinematografico nel film del 1951 Jure in The Navy Now. Bronson ha mostrato un talento insolito che lo distingueva dagli altri aspiranti attori. La sua capacità di ruttare a comando questa singolare abilità, sebbene non convenzionale, ha aperto la porta al suo primo tentativo nell'industria cinematografica. Nonostante la novità della sua performance, Bronson non ha ricevuto crediti cinematografici per il suo ruolo tuttavia, questo inizio eccentrico ha segnato l'inizio di quello che si sarebbe evoluto in una carriera di successo come attore. Il cammino verso la fama di Charles Bronson era pieno non solo di sfide professionali ma anche di incontri. Imprevisti e potenzialmente mortali un tale incidente avvenuto nel 1954 durante le riprese di Vera Cruz, un film che ha visto Bronson e il suo coprotagonista Ernest Borgnine nei panni di pistoleri americani coinvolti, in un conflitto storico tra messicani e francesi. Optando per un mezzo di trasporto autentico, Bronson e Borgnine, ancora vestiti per il film e armati di pistole di scena, hanno cavalcato dei cavalli direttamente dal set in città la loro apparizione, perfettamente adatta ai ruoli dell'Old West che stavano interpretando, ha involontariamente preparato il terreno per un dramma della vita reale. Il loro tempismo si è rivelato pericoloso incontrando un camion pieno di autorità nazionali messicane che non erano a conoscenza della produzione del film. Bronson e Borgnine si sono trovati in una situazione agghiacciante e scambiati per fuorilegge genuini. Sono stati tenuti sotto la minaccia delle armi dalle autorità. La situazione di stallo è continuata fino a quando non è stata verificata la loro identità, evidenziando i rischi che gli attori a volte affrontano quando i loro ruoli si mescolano alla realtà. Nonostante le prove e le tribolazioni della sua carriera iniziale e i pericoli incontrati sul set, la persistenza di Charles Bronson nell'industria è una testimonianza della sua resilienza e dedizione il suo viaggio. A Hollywood è una storia classica di un fiorire tardivo che raggiunge il successo non è stato fino al suo ruolo in The Magnificent Seven all'età di 39 anni che ha iniziato a guadagnare un riconoscimento significativo. Tuttavia, la sua scesa alla fama negli Stati Uniti è stata consolidata dal successo di Death Wish quando aveva 53 anni. Nel panorama del cinema, pochi film catturano l'essenza della determinazione e della resilienza come il classico del 1975. Hard Times interpretato da Charles Bronson, un'icona del grande schermo, questo film non solo ha mostrato la sua impeccabile forma fisica ma ha anche solidificato il suo status di attore, versatile e capace di offrire performance potenti. All'età di 53 anni, Bronson ha assunto il ruolo di un combattente stoico, eseguendo la maggior parte delle sue acrobazie con un'agilità che contraddiceva la sua età l'impegno per l'autenticità nella sua interpretazione ha contribuito significativamente alla risonanza del film con il pubblico e i critici. Diretto dal visionario Walter Hill, Hard Times è stato prodotto con un modesto budget compreso tra 2 e 4 milioni di dollari tuttavia. Ha sfidato le aspettative. Incassando quasi 30 milioni di dollari al botteghino un tale notevole ritorno sugli investimenti parla da solo della qualità del film e della natura avvincente della sua narrazione. Il coinvolgimento di Bronson è arrivato con un pesante prezzo di quasi 1 milione di dollari, una testimonianza del suo potere stellare e della fiducia riposta in lui dal team di produzione questo successo. Finanziario non è stato passeggero. Lo stesso l'ha osservato nel 29 che il film continuava a generare entrate, sottolineando il suo appello duraturo. Il percorso di Charles Bronson attraverso Hollywood è stato segnato da fedeltà e profonde relazioni, in particolare con il suo agente. Paul Conner la fiducia di Conner nel potenziale di Bronson era inossidabile. E questa fiducia è stata riccamente ricompensata a Bronson, sempre uomo di parola. Fece una promessa all'inizio della sua carriera che racchiudeva il suo senso di lealtà e gratitudine e giurò che se avesse raggiunto un successo significativo, avrebbe regalato a Conner una Rolls-Royce. Fedele alla sua parola, Bronson mantenne questa promessa, segnando un traguardo personale significativo che attrascendeva la loro relazione professionale. Mentre il classico del 1975 Hard Times rimane un gioiello celebrato nella carriera illustre di Charles Bronson, la produzione non è stata priva delle sue controversie e difficoltà sul set. Nonostante il successo commerciale e critico del film, le tensioni covavano sotto la superficie, evidenziando le dinamiche complesse della realizzazione cinematografica. La collaborazione tra Charles Bronson e James Coburn, due giganti del grande schermo, era un grande richiamo per il pubblico tuttavia. Secondo le segnalazioni, il partenariato era pieno di tensioni durante le riprese di Hard Times Coburn, che aveva già lavorato con Bronson. Era apparentemente insoddisfatto del suo ruolo secondario nel film. Questa insoddisfazione derivava da un percepito squilibrio nel potere stellare. P.K. Bronson, nonostante la sua grande popolarità, era a volte etichettato come attore di serie B. Questa etichetta, ingiusta come poteva sembrare date le sue prove, contribuì a creare un'atmosfera tesa sul set, riflettendo la natura competitiva degli attori di punta di Hollywood. Le discordie sul set di Hard Times non si limitavano alle dinamiche degli attori Charles Bronson affrontò le sue sfide. In particolare con il regista Walter Hill il punto di svolta arrivò quando il criticò la performance della moglie di Bronson, Gillie Irland, che era coinvolta anche nel film. La reazione di Bronson a questa critica fu feroce, rifiutò apparentemente di stringere la mano a Hill, segnalando un profondo offesa personale che alla fine portò alla fine della loro relazione professionale questo. Incidente era emblematico degli intensi investimenti personali che attori e registi fanno nei loro progetti e di come questi possono facilmente portare a conflitti. Alcuni storici del cinema hanno ipotizzato che lo screzio tra Bronson e il potesse avere radici ancora più, profonde e peculiari, oltre alle dispute pubblicizzate. Queste speculazioni aggiungono un ulteriore strato di mistero alla già complessa narrazione che circonda la produzione di Hard Times. Durante tutta la sua vita, Bronson ha mostrato comportamenti che hanno stupito e a volte allontanato coloro che lo circondavano. In particolare la sua avversione a stringere le mani quest'azione, o meglio, l'assenza di essa, ha portato a fraintendimenti sul suo carattere, con molti che lo etichettavano come arrogante. Tuttavia, la verità dietro questo comportamento rivela un aspetto più vulnerabile della personalità di Bronson, radicato in una profonda paura dei germi e nel desiderio di proteggersi dalle infezioni. La riluttanza di Bronson a partecipare a strette di mano non era un segno di disprezzo verso gli altri, ma piuttosto una precauzione sanitaria personale in un'epoca in cui la salute mentale e i confini personali non erano discusse o compresse così apertamente come lo sono oggi. Le azioni di Bronson sono state rapidamente fraintese la semplicità di una stretta di mano, un'abitudine sociale comune, quando evitata, diventa un gesto evidente e spesso frainteso. Per Bronson, questo evitamento era una misura necessaria per garantire il suo benessere, guidata da un'intensa paura dei germi che avrebbero potuto causare malattie. La speculazione che Charles Bronson potesse soffrire di un disturbo ossessivo compulsivo, DOC, non diagnosticato aggiunge un altro strato alla comprensione della sua personalità, il DOC, caratterizzato da pensieri eccessivi, ossessioni, che portano a comportamenti ripetitivi, compulsioni, potrebbe spiegare la germofobia di Bronson e il suo rigido evitamento del contatto fisico fino ad ora. Non ci sono state conferme definitive che Bronson abbia il DOC. Tuttavia, ciò lo ha reso involontariamente una persona antipatica ed arrogante di fronte ai suoi colleghi e a tutti quelli, intorno a lui. Inoltre, l'icona cinematografica nota per la sua potente presenza sullo schermo ha affrontato significativi drammi al D, fuori delle telecamere durante la produzione del film d'azione del 1974, Mr. Majestic, conosciuto per la sua personalità intensa e a volte volatile. L'esperienza di Bronson sul set di questo film serve come vivida illustrazione delle pressioni e delle sfide, intrinseche alla realizzazione di un film. La produzione di Mr. Majestic ha incontrato ostacoli immediati già dal primo giorno un ritardo logistico, causato dal ritardo di un camion di trasporto che trasportava auto essenziali. Ha impostato un tono teso per la giornata e stato in queste circostanze frustranti che Bronson, già di cattivo umore a causa del ritardo, ha espresso un'opinione controversa che avrebbe acceso una tempesta tra gli addetti alla produzione. La sua proposta che la produzione avrebbe beneficiato di un assistente europeo di primo piano e di un equipaggio non è stata presa alla leggera da coloro presenti. Le osservazioni di Bronson si sono diffuse come un incendio sul set, suscitando indignazione tra i membri dell'equipaggio sentendosi insultati e svalutati. Il morale dell'equipaggio è crollato, spingendoli sull'orlo di lasciare il film in massa a questo indignazione collettiva ha presentato una sfida, significativa per il regista del film, Richard Fleisker, che si è trovato nella difficile posizione di dover disinnescare una situazione altamente volatile. Attraverso una combinazione di diplomazia e persuasione, Fleisker è riuscito a evitare un esodo di massa, convincendo l'equipaggio a rimanere e continuare il loro lavoro sul film. Nonostante il successo di Fleisker nel mantenere l'equipaggio a bordo, l'atmosfera sul set è stata irreversibilmente alterata. Bronson è rimasto sorpreso dall'ostilità duratura che l'equipaggio ha nutrito nei suoi confronti. Oh, non credete che il nostro Charles Bronson abbia anche molte paure fino al punto di strane ossessioni? Tra queste paure, la pirofobia o la paura del fuoco, è stata particolarmente impattante. Un esempio significativo di come la paura del fuoco di Bronson abbia influenzato le sue azioni si può vedere. Durante le riprese del film iconico del 1974, The Twish per mitigare i rischi associati alla sua fobia, Bronson ha fatto una richiesta specifica e insolita riguardo al suo alloggio a organizzato per sé e per la sua, famiglia di essere alloggiati in camere ed albergo situate non più in alto del secondo piano. Questa decisione era radicata in una convinzione profondamente radicata che in caso di incendio, trovarsi al piano inferiore avrebbe aumentato significativamente le loro possibilità di fuga e sopravvivenza. La paura di Bronson non era senza motivo. Gli incendi negli edifici alti pongono sfide significative per l'evacuazione e gli sforzi di soccorso, e l'insistenza di Bronson nel rimanere ai piani inferiori era una misura pratica volta a ridurre questi rischi. La vita di Charles Bronson, piena di trionfi cinematografici, lotte personali e perdite profonde, ha preso una svolta inaspettata con l'adattamento delle memorie della sua defunta moglie Gilly Irland in un film, seguendo la straziante perdita della sua adorata seconda moglie, Gilly Irland, nel 1990. Le sue memorie hanno servito da base per un adattamento cinematografico che cercava di rendere omaggio alla sua vita e al suo lascito. Nel film, il personaggio di Irland è stato interpretato da Jill Kleiburg, mentre freelance Henrikson ha assunto il ruolo di Bronson. L'uscita di questa narrazione profondamente personale nel dominio pubblico è stata accolta con attesa e curiosità, specialmente per quanto riguarda la reazione di Bronson nel vedere la storia della sua vita e la sua perdita, rappresentate e sul grande schermo. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un uomo dallo stoico e riservato personaggio pubblico di Bronson, la sua reazione al film è stata scioccante. Il film mirava ad onorare la vita e il coraggio di Gilly Irland, in particolare la sua battaglia contro il cancro, una narrazione che molti avrebbero trovato toccante e degna di un omaggio cinematografico la rappresentazione di. Jill Kleiburg di Irland e il ruolo di freelance Henrikson come Bronson erano centrali a questo tributo. Tuttavia, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da qualcuno che assiste alla storia del proprio caro raccontata, la reazione di Bronson è stata tutto fuorché favorevole. Lungi dall'essere onorato o commosso, Bronson era infuriato dalla produzione del film e la sua insoddisfazione è arrivata al punto da minacciare azioni. Legali contro i cineasti questa risposta ha sorpreso molti che vedevano il film come un amorevole tributo al coraggio di Irland e alla lotta condivisa della coppia. La reazione di Bronson solleva complesse questioni sulla privacy, la rappresentazione delle vite personali sul palcoscenico pubblico e i confini dell'interpretazione artistica, rispetto all'approvazione personale. Nonostante le turbulenze legate all'uscita del film, la vita personale di Bronson ha preso una svolta positiva quando ha ritrovato l'amore con Kim Wicks. Wicks, che aveva legami con Bronson attraverso il suo lavoro con Irland su audiolibri, è diventata alla fine la sua terza moglie. Il loro matrimonio è durato per cinque anni, fino agli ultimi giorni di Bronson. Come la sua persona, Charles Bronson si è anche trovato in incidenti altrettanto bizzarri. Una donna, una fervente ammiratrice del suo lavoro che non aveva mai incontrato, ha fatto un gesto drammatico della sua ammirazione lasciandogli tutta la sua eredità nel testamento. L'immobile era valutato a oltre un milione di dollari una testimonianza sostanziale del suo adorazione. La decisione della fan di lasciare la sua ricchezza a Bronson, bypassando la sua stessa famiglia, ha scatenato una battaglia legale la famiglia, sorpresa dall'ascito a uno sconosciuto celebrità piuttosto che a loro. Ha contestato il testamento la loro sfida ha portato alla luce le complesse questioni legali, etiche ed emotive legate all'eredità, alla fedeltà dei fan e alla celebrità. La disputa ha alla fine portato a un accordo fuori dal tribunale, una risoluzione che forse parla del carattere di Bronson e del suo desiderio di evitare di prolungare una situazione controversa. Nella seconda metà della sua carriera, Charles Bronson non ha lasciato un'impressione così profonda come una volta. Conosciuto principalmente per la sua aria rude e i ruoli pieni d'azione nei film B, il desiderio di Bronson di mostrare la sua gamma ha portato a un punto di svolta significativo, sebbene sottovalutato, nella sua carriera con l'esordio alla regia di Sean Penn nel 1991, The Indian Runner. In The Indian Runner, Bronson ha offerto una performance che si discostava significativamente dalla persona dell'eroe d'azione che il pubblico aveva imparato ad associargli la sua interpretazione nel film era sfumata e pacifica. In netto contrasto con i personaggi aggressivi che spesso interpretava questo ruolo ha offerto uno sguardo sulle capacità di Bronson come attore, dimostrando la sua capacità di trasmettere profondità e vulnerabilità. I critici hanno notato, lodando Bronson per la sua interpretazione inaspettata e coinvolgente. Nonostante il plauso della critica, The Indian Runner non ha ottenuto successo commerciale ed è diventato infine l'ultimo film di Bronson ad essere, distribuito al cinema. Durante la sua illustre carriera, i contributi di Bronson al cinema hanno ricevuto un riconoscimento formale limitato. Ha ottenuto solo tre premi e due nomination, un modesto bilancio per un attore della sua statura. Tra questi riconoscimenti c'era una nomination agli Emmy nel 1961 e una stella sulla Hollywood Walk of Fame, entrambi significativi mascarsi alla luce della sua vasta produzione cinematografica. Uno dei suoi riconoscimenti più notevoli è stato l'Enrietta Award ai Golden Globes per il World Film Favorite, che ha condiviso con Sean Connery, e così, la vita una volta gloriosa di Charles Bronson è finita, lasciando molta tristezza per il pubblico e i fan di tutto il mondo. Grazie per esservi uniti a noi nell'onorare la memoria di Charles Bronson, una leggenda del grande schermo il cui spirito continua a ispirare, nelle storie della sua vita. Troviamo una narrazione tanto avvincente quanto qualsiasi dei suoi film, caratterizzata dalla profondità del suo carattere e dal calore del suo cuore. Per ulteriori storie sulle vite e i lasciati delle figure più iconiche del cinema. Iscrivetevi al nostro canale e premete l'icona della campanella per rimanere aggiornati.